Musica Sgominata dai carabinieri della compagnia di Tivoli una banda specializzata nei furti, nelle abitazioni, nelle ville, negli esercizi commerciali, nel Lazio, in Umbria e in Toscana. Cinque le persone arrestate, tutte di nazionalità romena, che avevano la loro base logistica nel comune di Guidonia, alle porte di Roma. L'organizzazione commetteva i furti anche di notte in presenza dei proprietari. Nessuna porta, finestra o balcone, sebbene con inferriate, poteva resistere alle fiamme ossidriche che utilizzavano anche per aprire le più sofisticate casse forti. La banda aveva inoltre un'efficiente capacità di allenare i beni rubati, trasformandoli in denaro che veniva trasferito in Romania.